Ciao a tutti, per svariati motivi, tu mi hai fatto una domanda di cosa parla la canzone e quella cosa che più mi è rapita e di cui mi sono innamorata è stato proprio il testo di questo brano, al di là di tutto, perché mi emoziona solo parlarne perché mi parla di una crisi, cioè della crisi intesa veramente nel suo significato totale come parola. Mi sono innamorata, io ho sentito di nuovo la collaborazione di Hans Sigan molto vicina, abbiamo avuto modo dopo l'anno scorso di conoscerci meglio e di andarci incontro per quanto riguarda, diciamo proprio mio aspetto artistico, la sua responsabilità da produttore. Quindi per me, forse dire che sono quasi più emozionata dell'anno scorso, anche se sono più sicura e rassicurata insomma dall'atmosfera che so che si respira all'Eurofestival, ho imparato veramente tantissime cose. Vorrei dire di più di questa canzone, però lascio il suspense come l'anno scorso perché vale la pena, forse anche di più perché c'è un significato profondo, è diversa la Valentina ma sempre con la sua passione, è quello che io principalmente voglio trasmettere, è trasmettere un messaggio e onorare San Marino attraverso il messaggio di questa bellissima canzone.